Salve a tutti amici e ben ritrovati su Pausa Caffè. Parliamo ancora dell'Isola dei Famosi, dove praticamente la puntata, insomma l'ultima che c'è stata, era in procinto di andare a finire quando all'improvviso la timoniera, cioè Ilari Blasi, si è andata a scagliare contro i naufraghi. Ma cosa avevano combinato i naufraghi per farla arrabbiare? Nemmeno alla fine dell'appuntamento tv in diretta i concorrenti hanno trovato pace e c'era una ragione in realtà ben precisa dietro il nervosismo della conduttrice, cioè c'era qualcosa già di fondo. Ebbene quest'ultima si è rivolta verso di loro e ha nominato in particolare una, una protagonista, che dovrà per forza di cosa cambiare registro per evitare di incorrere in dure conseguenze, non sia mai. Stavano quasi per uscire i titoli di coda dell'Isola dei Famosi e Ilari Blasi è intervenuta a gamba tesa sui naufraghi, che l'hanno ascoltata con molta attenzione. Lei ha lanciato un messaggio chiaro ed inequivocabile, quindi in questi giorni e prima del prossimo appuntamento di lunedì 29 maggio dovranno avere un comportamento differente per evitare che questa reprimenda possa trasformarsi in una vera e propria punizione. Verso la fine della puntata del 22 maggio dell'Isola dei Famosi, Ilari Blasi ha chiamato ad uno a uno i naufraghi e li ha invitati a fare le nomination. Una volta finito questo passaggio, lei ha ripreso la parola e ha fatto un appello molto forte nei confronti dei naufraghi. Nathalie Caldonazzo è stata bacchettata maggiormente, infatti mentre stava per concludere il suo discorso, l'ex moglie di Francesco Totti ha fatto proprio il nome della showgirl. Questo è il messaggio integrale di Ilari Blasi, come riferito dal sito Novella 2000. Naufraghi allora, prima di salutarvi devo essere un po' severa con voi. Perché come sapete esistono dei protocolli di sicurezza. Ed è giusto che voi li rispettiate per il vostro bene. Mi raccomando, fatelo, perché questa settimana molti di voi non l'hanno fatto. Capito Nathalie, so anche che avete raccolto le vostre cose. Sapete perché, questa sera traslocherete su un'altra isola. Buon viaggio, buona isola. Giocherete tutti contro tutti e le tribù non esistono più. A proposito delle nomination, sono finiti al televoto cinque concorrenti. Rischiano l'eliminazione Nathalie Caldonazzo, Pamela Camassa, Luca Vetrone, Marco Mazzoli e Corin Clery. Scopriremo chi uscirà la prossima settimana. Cari amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per la visione. Mi raccomando, lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti, iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina. Oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.